Furto ai danni di una concessionaria ad Agropoli, il fatto è accaduto la scorsa settimana, nella notte tra venerdì e sabato, ma la notizia è trapelata solo ieri. I gnoti sono entrati in azione nei pressi di una concessionaria di auto usate in località Marrota, nei pressi dell'ex statale 267 Via del Mare, che conduce nel vicino comune di Castellabate. I malviventi si sono introdotti nei locali della concessionaria, forzando il cancello d'ingresso per poi entrare negli uffici dove erano custodite le chiavi delle auto esposte. Sono riusciti a portare via sei vetture, facendo poi perdere le proprie tracce. Sul caso indagano i carabinieri della locale compagnia, diretti dal capitano Giulio Presutti.